Sono molto lieta di aver avuto l'opportunità di venire qui, perché l'avvio di questa petizione era dovuto al fatto che sentivamo che le nostre parole non fossero ascoltate in maniera sufficiente su questo tema. A inizio settembre, quando c'è stato quel terribile evento in Austria, queste 71 persone che sono trovate morte in un camion vicino alla strada, e quando Natalie Vorgas e Laura e altri insieme a me hanno deciso di fare qualcosa. Conoscevamo tanti registi in tutta Europa, conoscevamo istituzioni pronte ad aiutarci e quindi abbiamo detto che dobbiamo alzare la voce, dobbiamo farci ascoltare. Vorrei citare ancora qualche nome di persone che non hanno potuto essere qui, Bella Tar, si scusa, non è potuto venire per problemi di salute, questa leggenda ungherese. Poi Susanne Beer, danese, Juliette Binoche, francese, Costa Gavra, della Grecia, Daniel Craig, non credo di dover raggiungere nulla alla sua presentazione, Alfonso Cuarón, Jean-Pierre Luc Dardenne, che stanno girando al momento, ma ci hanno aiutato molto fin dall'inizio. Claude Lansom, Ken Loach, Christian Munchu, Romeno, Pavlikowski, Isabella Rossellini, Volker Schlunder, Till Schweiger, Risaide dell'Austria, Michel Heinecke dell'Austria e tutti gli altri 5500, non so esattamente a quanti siamo arrivati, tutti gli altri sostenitori della nostra petizione. Grazie.